Estate, sole, mare, buona cucina e posti incantevoli è questo il mix che probabilmente ha reso la Calabria la vera star delle vacanze estive 2017. Secondo Conf Turismo infatti rispetto al 2016 si registra una significativa crescita. D'altra parte lo aveva previsto e annunciato anche Vittorio Caminiti di Federal Berchi Calabria, che sarebbe stata un'estate ricca di nuove presenze provenienti da nuovi mercati. Unica nota amara sottolineata da Caminiti è l'occasione persa della politica di casa nostra, che non ha saputo sfruttare al meglio la pubblicità del New York Times, che ha inserito la Calabria tra le 50 metri da non perdere nel 2017. Agosto comunque è stato il mese in cui gli albergatori hanno lavorato di più. La Calabria riferisce ancora a Caminiti per registrare in Italia in questo periodo il più alto tasso di occupazione alberghiera in Italia, anche se la chiusura dello scalo di Crotone ha penalizzato alcune grandi strutture. Quest'anno peraltro, dice il presidente degli albergatori calabresi, titolare di una rinomata struttura ricettiva nel Regino, non possiamo neanche contare il servizio navetta degli aeroporti assicurato in anni passati. Un altro attrattore forte verso la Calabria insieme con l'ambiente, con le bellezze naturali e poi la cultura, vanno benissimo infatti i musei con record di presenze. Il buon andamento per le strutture balneari della regione è poi confermato da Vincenzo Farina, da pochi mesi alla guida della Confesercenti Calabria, ma da anni impegnato nel settore dell'astro turismo dell'associazione di categoria. Per il turismo balneare sono stati registrati incrementi significativi non solo nei fini settimana, che hanno risentito del bel tempo, ma anche rispetto all'andamento di giugno. Secondo gli esperti, quella 2017 è un'estate da ricordare, la Calabria infatti è vicina al record di presenze. Insomma, la tendenza è positiva e i dati fanno ben sperare anche per il futuro.